Siamo a Vicoforte con Giulia Carbone per il primo evento dell'associazione Via. Ci spieghi perché siete partiti di qua, da questa cappella di San Rocco? Siamo partiti da qui perché qui ci sono le mie radici, a Vicoforte io vengo da qui, sono stata tanto fuori e adesso volevo fare qualcosa per il territorio mio, il Morregalese. Noi cerchiamo delle strutture rurali che sono conosciute oppure sconosciute, le vogliamo arricchire di interventi d'arte intesa in tutte le discipline, in particolare l'arte contemporanea. Questa è la prima installazione d'arte assai specific permanente sul territorio, Miracle di Emilio Ferro. Ha una valenza simbolica particolare questo posto e diciamo che l'opera di Emilio la rispecchia, però poi Emilio penso che vi parlerà meglio della sua intenzione e dell'opera che ha realizzato. Speriamo che sia un progetto pluriannale e abbiamo già in mente una seconda installazione in una seconda cappella a Mondovì questa volta in autunno e suggerirà anche la collaborazione con l'associazione Arte Continua. Quindi siamo molto contenti e speriamo che ogni anno possiamo avere sempre più opere. Grazie, in bocca al lupo! Grazie!